Si chiama Calabria Terra dei Padri 2023, è il progetto sul turismo presentato dalla regione a Gizzeria Lido. La nostra terra sul tema può dire tanto, ma bisogna saperlo comunicare e soprattutto raccontare. L'iniziativa andrà avanti per due anni ed è stata ideata nel 2020. La volontà e l'esigenza rispetto a come in passato si è avuto anche un contatto con i calabresi sparsi per il mondo, dove si andava a dare i premi in Argentina, questo è un progetto diverso, questo è un people project, non l'abbiamo pensato, ha affidato a un project manager che lo fa senza compensi, perché è un calabrese importante come Lucio Presta, che come antenna nazionale e internazionale è la figura più adeguata e quindi si lavorerà sia internamente sulla nostra consapevolezza, noi siamo la terra dei cento marcatori identitari distintivi, i francesi hanno la grande ma qui parliamo cinque lingue, che sono appunto l'occitano, l'albresce, il grecanico, l'italiano e anche il calabrese. L'idea si avvale della collaborazione di Lucio Presta, noto project manager. La Calabria deve a dei figli che le possono permettere di far vivere cose straordinarie, questo mi ha convinto perché girando il mondo ho incontrato persone calabresi che hanno dei posti sensazionali, che ricoprono ruoli incredibili nel mondo, probabilmente il più stupido sono io, ma proprio per questo motivo voglio dare tutto quello che posso per far sì che parte di essi tornino a restituire quello che hanno portato via, la loro capabilità, la loro forza, la loro tenacia che li ha resi importanti nel mondo.